Buongiorno dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 ci sono code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna per traffico intenso. In A11 coda tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola in direzione Firenze. Sulla FIPILI code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze e ralentamenti tra Firenze Scandicci e Scandicci in direzione Livorno. Per quanto riguarda la viabilità cittadina, a Firenze si segnalano ralentamenti per il traffico intenso sui viali e per i lavori della tramvia ieri pomeriggio è scattato il ribaltamento del cantiere in via Pisacane con il ripristino del doppio senso in via 20 Settembre. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!